Ed eccoci qui a commentare la vittoria del Napoli a San Siro contro il nostro Milan. Innanzitutto parto col fare i complimenti, ma li faccio ai nostri ragazzi, perché questa sera non meritavano di perdere. La partita è stata segnata da alcuni episodi, come spesso accade quando si affrontano due squadre di livello e questa cosa ce l'eravamo detta anche in diretta nell'intervallo. Faccio i complimenti ai ragazzi perché questa sconfitta non è stata una sconfitta meritata, però fa parte dello sport e va accettata con la consapevolezza di avere noi tifosi del Milan per le mani una squadra veramente molto forte. Chiaramente questa sera ci sono stati alcuni momenti della partita dove il Napoli è riuscito a sfruttare quel pochissimo che ha creato perché di fatto i due tiri, i due gol sono stati i soliti tiri in porta della squadra, poi c'è stato quello di Zerbina, non ricordo altro, nel finale. Difficile commentare perché da un lato sono molto contento della prestazione e ovviamente deluso dal risultato, dall'altro però mi rendo conto che dopo più di 20 partite di imbattibilità, dopo l'inizio in Champions League, dopo il percorso fatto da questa squadra non si può certo accusare nulla e non si può accusare nessuno per questa sconfitta che ci può stare durante il percorso, tra l'altro se vogliamo guardare la cosa da un punto di vista scaramantico, anche l'anno scorso abbiamo perso a San Siro in casa, giocando tra l'altro meno bene rispetto a questa sera, per cui ci sono tutti i presupposti per far sì che il Milan, alla ripresa del campionato, possa ripartire con una serie di risultati positivi, anche perché la classifica davanti è molto corta, anche perché sappiamo quanto la storia recente ci insegni che il Napoli è una formazione che spesso parte bene in campionato e poi dopo non riesce a tenere il ritmo e quindi ovviamente in maniera del tutto prematura, ma possiamo dire che non cambia nulla per quel che riguarda la lotta di vertice. È un peccato non essere riusciti almeno a pareggiare questa partita, su quella traversa di Calulu, penso che in molti abbiano ripassato i santi del calendario perché sarebbe stato, credo di poter dire, sarebbe stato il risultato minimo per noi. In una gara dove abbiamo condotto per lunghi tratti, dove abbiamo subito un calcio di rigore e dal giocatore più pericoloso della squadra, lo sapevamo, tant'è che poi il mister nell'intervallo è stato costretto a cambiare entrambi i giocatori che Varaschelia aveva fatto a munire e proprio Dest, sfortunatamente, è finito in mezzo a quell'azione del calcio di rigore, che tra l'altro Menian per poco non prendeva. Poi c'è stata una bella reazione da parte nostra e siamo andati a prenderci in meritato pareggio. E dopo di che sono arrivati questi due episodi. Da un lato il bel gol di Simeone che anticipa Tomori e segna e dall'altra parte la traversa di Calulu che dà l'avvio all'azione e purtroppo per noi non la finalizza. Comunque, ripeto, c'è da fare i complimenti a questi ragazzi per la partita, per la personalità, anche per le energie fisiche che sono state spese nel controllarla. Di fronte a un Napoli che si è messo i panni, diciamo, della squadra tendista, si è messo i panni della squadra che avrebbe voluto sfruttare delle occasioni in contropiede e effettivamente, insomma, più o meno c'è riuscita. Il piano gara del mister, secondo me, è stato molto buono perché non ha stravolto con invenzioni tattiche che adesso non si possono fare la filosofia del nostro Milan. E quindi ha messo Krunic al posto di Leao e ha poi naturalmente mosso i giocatori in maniera un po' diversa perché non potendoci affidare a certe soluzioni che Leao ci permette abbiamo cercato molto Giroud. L'abbiamo fatto anche con efficacia nel primo tempo, con dei bei cross, anche con delle idee da calcio d'angolo che finalmente cominciamo a vedere svilupparsi però non è bastato e quando tu domini così tanto una partita, la controlli, la gestisci nei tempi, nelle azioni, eccetera, però non riesci a fare gol, può essere veramente un grande handicap in gare come queste dove affronti un avversario che è forte e quindi alla prima occasione hai giocatori per fregarti. E quindi siamo andati in intervallo con il rammarico per non aver segnato con la consapevolezza che avremmo potuto vincere la partita ma anche con la consapevolezza che l'avremmo potuta perdere perché, ripeto, queste partite vivono di episodi e di sottili equilibri che possono essere distrutti da un momento all'altro. Pioli cambia Kier e cambia Calabria nell'intervallo ammoniti e, evidentemente e giustamente, con la preoccupazione di rischiare l'inferiorità numerica perché con l'andare della partita se Napoli avesse continuato ad avere l'atteggiamento che aveva mostrato nel primo tempo era evidente che poi, diciamo, la stanchezza che sarebbe subentrata avrebbe potuto consentire a Napoli delle soluzioni in contropiede che magari noi avremmo dovuto gestire con due giocatori ammoniti da quel lato. E quindi mette Dest e mette Calulu che sono stati poi protagonisti ma non solo mi sono piaciuti i cambi di Piori questa sera secondo me ha trovato il modo di rinverdire, diciamo, la squadra perché l'ingresso di Brian Diaz è stato positivo ha dato un bel movimento sulla tre quarti a riprova che questo è un giocatore che deve giocare così cioè che in questo momento non può essere il titolare poi di The Ketelar parliamo ma è un giocatore che da subentrato può davvero dire la sua può darci una grande mano dicevo i cambi giusti perché le ammonizioni l'hanno portato a quei cambi il cambio di Brian Diaz al posto di Krunic giusto per l'ingresso di Brian Diaz e per la necessità di dover recuperare il risultato perché eravamo sotto di un gol a quel punto chiaramente credo che sia dispiaciuto anche a Pioli di togliere il Krunic di questa sera che ha fatto tutto quello che doveva fare e l'ha fatto anche bene non è un giocatore al quale si può chiedere di risolvere la partita ma nel primo tempo è stato comunque uno dei più pericolosi da quel calcio d'angolo dove ha sfiorato il gol con la bella parata di Meret l'ingresso di Junior Messias invece è stato ininfluente praticamente lo ha messo in porta The Ketelar con un bel passaggio ma ha tirato un tiro che Meret ha parato e per il resto ha sbagliato tantissimi controlli ecco l'unica nota negativa credo della serata sia stato l'ingresso di Junior Messias ma a quel punto è evidente che Pioli volesse innanzitutto darci un po' di tregua dal ruffone Sarimaker che comunque in fase di non possesso mi è piaciuto molto non in fase di possesso poi dopo siamo andati a trovare il meritato pareggio con una bellissima azione con un pallone di Diaz per The Ketelar da lui a Teo, grande sovrapposizione, grande assist in mezzo per Giroud che questa sera aveva il gol caldo e l'ha trovato e quando pensavamo a quel punto di poter ribaltare la partita e credo che tutti noi l'abbiamo pensato tutti noi eravamo convinti che ce la saremmo andati a prendere finalmente in casa con il Napoli ecco che a quel punto al minuto 78 arriva il gol di Simeone cross di Mario Rui bella, bella torsione di testa in anticipo, non ci puoi fare niente puoi solo fargli complimenti e dire hai fatto un bel gol e succede l'abbiamo detto spesso non sempre colpa della difesa io questa sera sinceramente alla difesa non mi sento di dire nulla né prima né dopo la trasformazione l'ingresso di dest al di là del rigore che vabbè insomma sono episodi che possono capitare non mi ha dato molto di più rispetto a Calabria ma lì il punto non è che Calabria avesse fatto una cattiva partita anzi perché Calabria aveva fatto un'ottima partita è che era ammonito e quindi andava sostituito poi è entrato Adelì al posto di De Ketelar e anche lui ha sbagliato i primi palloni poi ha provato a mettersi un po' più dentro il gioco ma fino al punto che abbiamo fatto diciamo abbiamo tentato anche con dei buoni cross ho visto anche Tonali mettere dei buoni palloni però insomma non era facile perché lì sulle palle aeree era un Giroud contro tutti e comunque qualche sponda l'ha fatta anche nel secondo tempo ha fatto una grande partita secondo me di Giroud al netto del gol però poi quando costruisci quell'azione bellissima anche lì in mezzo ancora Brian Diaz che era da Teo che stava per fare il secondo assist della serata lì purtroppo su quella palla c'è finito Kalulu purtroppo nel senso che non è un attaccante ha colpito e siamo stati troppo precisi perché siamo andati a prendere la traversa invece di fare gol ed è insomma lì si è un po' spenta la nostra parte poi ci sono stati un po' di calci d'angolo un po' di situazioni così insomma senza grossi pericoli per loro e quindi niente la mia delusione è legata solo ed esclusivamente al risultato perché non è giusto però lo sport è così capita di perdere delle partite che non meriti ti capita di vincere delle partite che non meriti di vincere e ti capita di perdere partite che non meriti di perdere quella di questa sera è una partita che non meritavamo di perdere che anzi secondo me ci deve dare ancora più convinzione per quello che siamo diventati cioè una squadra molto forte in Italia probabilmente la più forte perché dopo aver visto le partite delle altre ma non oggi dall'inizio della stagione dall'Inter alla Juve alla Roma a tutte quante ma anche lo stesso Napoli per certi versi devo dire che Milan è la squadra più forte poi però dovremmo dimostrarlo alla ripresa del campionato per quel che riguarda i singoli io vorrei fare alcune menzioni cioè la partita dei nostri due centrocampisti che sono stati fenomenali un grandissimo Tonari nel primo tempo un grandissimo Benassert per tutta la partita a sbrogliare anche situazioni difficili a correre su tutti i palloni ad annullare fin tanto che le distanze siamo riusciti a mantenerle il centrocampo del Napoli mi è piaciuto molto Krunic è vero detto Salemaker un po' a ruffone Teo partita magistrale anche in fase difensiva anche in fase di ripiegamento con soprattutto nel primo tempo alcune rincorse e chiusure veramente notevoli oltre alla spinta offensiva che ci ha dato quella superiorità numerica che senza Leao non riuscivamo a conquistare dall'altro lato ad esempio poi i due attaccanti Di Giroux abbiamo detto che ha fatto secondo me un'ottima partita al netto del gol e poi De Ketterer De Ketterer ha fatto una partita strana perché ha perso molti contrasti a un certo punto era un giocatore che ne aveva persi di più 6 all'interno della partita però ancora una volta ci ha dato secondo me quella sensazione di un giocatore che non appena troverà la giusta dimensione non appena troverà per dimensione intendo collocazione in campo intendo dialogo con i compagni intendo essere al centro della squadra oltre a Leao perché noi dovremmo trovare comunque soluzioni nel tempo oltre a Leao questa sera ha fatto un'altra partita con alcune cose molto buone perché è andato dentro l'azione del gol ha messo quel pallone per Junior Messias con un movimento veramente molto bello da vedere è molto bello da vedere deve togliersi di dosso il peso diciamo della giovinezza e di tutto quanto ma non è un problema per il Milan secondo me mi direte il Napoli ha preso Kvara Schedia che già fa la differenza ok va bene bravi loro bel giocatore lo si sapeva perché comunque non è che fosse proprio sconosciuto però un momento perché poi dopo vediamo sulla distanza chi andrà a determinare magari sarà più lui magari sarà più il Giorgiano del Napoli non dico di no però in questo momento non si possono mettere bollini addosso a un ragazzo di 21 anni 20-21 anni che è appena arrivato nel mondo della squadra campione d'Italia e ha bisogno del tempo di cui ha bisogno per inserirsi quindi si continuano a vedere delle cose buone e delle cose meno buone ma nelle cose buone c'è tanta qualità e quindi lì poi dovremmo andare a pescare per cui non mi sento assolutamente di bocciare nemmeno lui questa sera così come non boccio nessuno perché veramente dalla gestione mentale della partita anzi dall'approccio alla gestione mentale della partita alla proposta fino ai cambi del mister credo che questa sera sia stato fatto tutto quello che andava fatto certe partite sono determinate da certi episodi se quella palla di Calulu fosse finita in porta invece che sulla traversa adesso staremo a commentare una partita sicuramente da rammaricarsi per non averla vinta allo stesso modo però con un punto in saccoccia ma non fa niente adesso ripartiremo faremo altre 20 fischi a partita senza sconfitte chi rimarrà a Milanello si riposerà chi andrà con le nazionali speriamo che giochi pochissimo e questa sera usciamo solo a testa altissima ma usciamo con la convinzione che il Milan è una squadra forte è una squadra molto forte secondo me è la squadra più forte del campionato onore a Napoli per il suo percorso fino adesso meno per la partita di questa sera perché ripeto non meritava di vincere ma noi siamo una squadra forte per cui animo prepariamoci adesso a fare due settimane di depurazione per poi ripartire come treni Empoli Chelsea dunque abbiamo Empoli Chelsea Juventus e Chelsea ci vediamo domani con la compagnia della live alle 12.55 non mancate perché ritorna una grande rubrica e non vi dico altro così ci tiriamo un po' sul morale per chi c'è per chi l'avesse basso ma non non abbiate paura non 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 rovinatevi la serata abbiamo perso e siamo dispiaciuti ma lo sport è questo ma sappiamo che non meritavamo di perdere e che siamo una squadra molto forte a domani ciao ciao